Speriamo che a novembre del 2004 sarà un anno importante da tutti i punti di vista cambiamento a Bruxelles e cambiamento a Washington perché la pace passa attraverso il cambiamento dell'Europa e passa attraverso anche le elezioni europee Guarda a caso, ogni amministrazione democratica e sinistra a Washington coincide con il fuorio di guerra Ogni amministrazione repubblicana, conservatrice e cattiva corrisponde a periodi di pace quindi spero che torni a vincere e a governare Trump perché sicuramente avremo una prima parte di tutti però è giusto cercare